Ciao a tutti, sono Carlo Revello, sono oggi da Fuoritempo Cuneo per un test di questo ukulele tenore Goldwood Serie Pianura. Il tenore rispetto all'ukulele soprano ha delle dimensioni veramente ancora più maggiorate, diciamo che nella famiglia degli ukulele è il più grande, è un po', diciamo, tra i fratelli ukulele è quello palestrato, quello con la voce più grossa, quello più cattivo, diciamo. No, in realtà permette un'esecuzione più comoda, specialmente perché arriva da strumenti, tipo magari la chitarra e si trova un po' sacrificato sul soprano, qui veramente di una comodità molto marcata. Ha una voce appunto potente con la quale si può suonare un arpeggio, si può estendere il fraseggio su posizioni più alte che sul soprano sarebbero impraticabili. No, in realtà permette un'esecuzione più alte che sul soprano sarebbero impraticabili. Ovviamente anche questo strumento, come tutti gli ukulele, sono assolutamente utilizzabili in qualsiasi tipo di genere musicale, lo si voglia impiegare. Lo stereotipo di ukulele uguale a musica hawaiana poteva andare bene un sacco di anni fa. Ormai è stato utilizzato veramente dappertutto e ci si può accompagnare qualsiasi tipo di brano, brano pop, brano rock, senza alcun tipo di problema. Riassumendo, un ukulele ha tutti gli effetti, quindi come anche i suoi fratelli minori, il miglior anti-stress, anti-malinconia, anti-noia. Lo suonate e immediatamente la vita vi sorride. Vi invito a provarne uno. Venite da fuori tempo a strumenti musicali a Cuneo, provatelo e vedrete che ve ne innamorerete. Se poi volete imparare a suonarlo, potete venirmi a trovare da Insieme Musica in Corso Berileo Ferraris a Cuneo. Ciao a tutti! Grazie a tutti!